Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi voglio parlarvi di prodotti per le sopracciglia, intendo dire tutto ciò che mi accompagna letteralmente quotidianamente ogni giorno per quanto riguarda le mie sopracciglia. Parleremo sia di prodotti simili appunto a mascara e parliamo anche ovviamente di matite, anche perché durante il video vi farò vedere una ad una le applicazioni e come risultano i vari prodotti sul mio viso. Iniziamo subito la classifica dalla quinta posizione fino alla prima per eleggere il mio prodotto sopracciglia preferito in assoluto. Prodotto numero 5, parliamo di un prodotto low cost di L'Oreal, un prodotto che appunto ho potuto constatare e provare soprattutto quest'estate, è un prodotto in due in uno. Allora vi faccio vedere subito lo scovolino, questo prodotto è un mascara barra pencil, quindi molto preciso per quanto riguarda le sopracciglia. Brow Artist Sculpt, la sua texture è una polvere mista a crema. Mi è piaciuto molto questo prodotto perché? Allora il fatto di avere due cose in una sicuramente aiuta. Come potete vedere la parte superiore è un pennellino ad altissima coprenza in gel e questo ci aiuta nell'applicazione molto molto particolare del dettaglio sulle sopracciglia. La seconda parte invece come potete notare è fatta proprio da un mascara diviso a metà, vedete che la parte di questa parte qua non c'è. E quindi è molto semplice l'applicazione, semplicemente passate una volta effettuato l'arco della sopracciglia e risulta appunto un po' più piena. Quindi avete due prodotti in uno, il primo appunto come vi dicevo prima molto più dettagliato per fare il contorno delle sopracciglia e il secondo per dare il più volume possibile. Il suo costo è di 15 euro quindi è super abbordabile. La sua particolarità è questa anche che dura molto come prodotto, infatti lo applicate più volte anche se quotidianamente lo avrete per tantissimo tempo. Non mi piace tantissimo, non è tra i miei super super preferiti per la tenuta perché comunque tendo un po' a sbavare essendo in gel barra crema barra polvere e quindi non si ha quella tenuta che io cerco sempre nelle matite per sopracciglia che va proprio alle stelle. Quindi questo è il primo prodotto che vi faccio vedere ed è ottimo per chi cerca una soluzione comoda, sia chi cerca una matita e chi cerca anche un mascara. Questo è il prodotto due in uno L'Oreal. La colorazione che ho scelto è la 02, il brunette ed è la più chiara mi sembra. Forse ce n'è una ancora più chiara però non mi piace molto l'effetto che dà sulle sopracciglia. Questo mi sembra un passepartout per chi è biondo barra con chatouche o mesh e chi non è particolarmente chiaro. È un tono molto caldo però ci sono anche i toni più scuri e dà un effetto veramente molto riempitivo quelli scuri. Al contrario magari di questo che è un po' più chiaro che può sembrare, è molto naturale come effetto. Gli altri non mi sono piaciuti anche come swatch sulle mani perché sono veramente molto molto consistenti come prodotti. Ok, passiamo al prodotto numero 4 della nostra classifica. Parliamo di un prodotto di NYX, Build Them Up. È un prodotto molto diverso dal primo e ha la caratteristica di avere il singolo pennino. Quindi qua vedete già che non abbiamo più il mascara, cosa che era bella nel precedente prodotto. Lo consiglio più che altro persone che hanno delle belle sopracciglia che devono semplicemente andare un attimo a riempirle con qualche effetto di pelo per pelo. Non lo consiglio per chi sta cercando una cosa molto precisa perché ovviamente il pennellino è rigido però come vedrete poi nella mia dimostrazione non è particolarmente preciso. Mi piace molto questo prodotto perché? Innanzitutto perché è in polvere quindi quando io vado poi a passare la matita sulle mie sopracciglia mi piace semplicemente dare questo tocco di rifinitura, questo tocco tic 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 di pelo per pelo. Mi piace molto anche perché riesce a fissare proprio come un ombretto le sopracciglia una volta che voi passate o il gel o la matita. È un fissatore più che altro. Come vi dicevo se voi state cercando una linea perfetta questo non la fa per voi. Molto molto bello questo prodotto anche perché ha una scelta incredibile di colori. Ci sono otto colorazioni di tutte le sfumature. Allora c'è la nuance per chi ha i capelli rossi che è una cosa molto rara da trovare in una matita. Proprio un rosso pelle di carota, quegli rossi bellissimi aranciati. La colorazione che io ho scelto è il soft brown però come vi dicevo per chi è più biondo di me ci sono anche colorazioni blonde, toupé. Ci sono proprio di tutte le nuance. Andate a vedere sul sito di NYX perché è super fornito, molto dettagliato, molto chiaro e scegliete la vostra tonalità. Il prezzo è di 8,90€ e lo per pelo si dà questo effetto di tridimensionalità che uno spesso cerca per chi magari non ne ha particolarmente folte queste sopracciglia. La terza classificata è una matita Estée Lauder Brow Now. È una delle loro migliori matite, l'ho già descritta in uno dei miei video l'anno scorso, mi ha accompagnata in tutti questi anni. È appunto da temperare una colorazione e una pigmentazione praticamente uguale al capello biondo cenere che è quello che noi biondi in realtà stiamo sempre a cercare. Perché ovviamente non tutte le matite per capelli biondi e quindi per sopracciglia sono molto molto simili ai nostri capelli. Ad esempio se noi dovessimo andare a vedere ce ne sono davvero poche in commercio. È una matita gel quindi di lunghissima tenuta e di lunghissima durata. Vi faccio vedere la punta come si presenta in questo modo qui e appunto come potete vedere si può temperare tranquillamente, cosa che non ho ancora fatto. E alla fine della matita avete lo scovolino, quello appunto che sfuma poi il colore alla fine. Questa linea ci sono altre nuance molto molto simili al colore naturale dei nostri capelli. Questo prodotto l'ho messo nella classifica più che altro per la sua colorazione di cui io sono altamente innamorata. Quindi a tutte le bionde parlo in particolare se state cercando una matita che si avvicini al nostro biondo senza virare per il grigio, per il rosso o comunque per lo scuro. Andate dritte su questa matita qua perché veramente fa miracoli con il colore. Il prezzo di Brown Out di Estée Lauder è di 22€ ma come potete immaginare dalla lunghezza della matita è veramente eterna. Questa matita qua avrà circa 3 mesi e io la utilizzo quasi tutti i giorni, alterno un po' tra questi prodotti che vi sto elencando e devo dire che è veramente infinita. Ne basta un atomo, poi voi lo sfumate e essendo una matita in gel viene tranquillamente spalmato su tutta la sopracciglia e così andate a risparmiare un po' di prodotto. Allora secondo prodotto in classifica ci stiamo avvicinando al punto numero 1 prodotto by Dior Bold Brow. Praticamente è un mascara quindi io lo consiglio più che altro e l'ho acquistato proprio per dare più volume. Siamo attenti che un mascara non potrà mai essere perfetto e non potrà mai essere preciso. Quindi se state cercando qualcosa che vi delinei l'arcata delle sopracciglia questo è solo un aiuto in più. Andate su una matita in questo caso. Sul mascara di Dior invece posso solo dire cose meravigliose. Innanzitutto lo trovo di una durata pazzesca. L'ho utilizzato tantissimo quest'estate in Corsica e devo dire che anche se andavo struccata in spiaggia ma mi piaceva naturalmente avere qualcosa sulle sopracciglia per darmi un senso al viso. Applicando questo vi giuro che tra mare, tra olio solare, tra crema solare, tra bagni mi durava tutto il giorno. Di questo prodotto sono rimasta davvero estasiata e folgorata. Anche perché come vi dicevo la durata in questi prodotti è molto molto difficile da trovare. La consistenza e quindi la texture è molto cremosa, è in mousse. Una cosa molto molto bella anche di questo prodotto che ho riscontrato però dopo qualche mese è che all'interno ha un siero particolare che è in grado di stimolare la ricrescita del bulbo e quindi del pelo sulle sopracciglia. Ovviamente se è usato con costanza. Lo scovolino ve lo faccio vedere è presentato in questo modo quindi molto sottile, molto preciso e ovviamente come vi dicevo l'applicazione è super semplice andate tranquillamente a applicarlo sulle vostre sopracciglia e una volta fatto tempo veramente 3-4 secondi diventa solido e avete appunto questo effetto in 3D veramente di sopracciglia molto più voluminosa. Sembra quasi che aggiunga dei peletti alle sopracciglia, questo mi è piaciuto tantissimo del prodotto a parte la durata come vi dicevo prima. Il prezzo del prodotto di Dior è di 30 euro, la mia colorazione che ho scelto è la 021, c'è un colore un po' più scuro, c'è il mio colore e mi sembra che ci sia anche un colore molto più chiaro però questo per le donne bionde è perfetto. Ok ragazzi siamo arrivati alla prima posizione della mia classifica, torniamo alla marca di NYX, una marca che io adoro per quanto riguarda le sopracciglia. Non manca mai assolutamente nel mio beauty case, anzi io ne ho un paio, una che tengo in borsetta per quando esco e una nel mio beauty appunto in bagno. E stiamo parlando Precision Brow Pencil e voi direte che cosa ha di particolare questa matita? Allora innanzitutto non è una matita ma girando viene fuori appunto la mina, quindi bisogna fare molta attenzione a non farla cadere. Come potete notare è una mina molto molto particolare, è a taglio e questa è una cosa che agevola tantissimo alcune di noi che magari hanno le sopracciglia con dei buchi e ovviamente la parte esterna, quindi la coda delle sopracciglia viene un po' a mancare. Questa è la matita con cui io spero che non finisca mai la sua produzione e con cui passerò il resto della mia vita. Innanzitutto per la sua precisione, come vi dicevo è facilissimo da applicare, voi fate il vostro contorno, fate il vostro contorno, la riempite con dei piccoli gesti in questo modo, poi vi faccio vedere. E in questo modo avete la certezza di avere delle sopracciglia super super perfette, non ha uguali come precisione, anche perché davvero essendo fatta a taglio va bene per tutte le forme di sopracciglia. Dall'altra parte abbiamo ovviamente un pennellino per sfumare il lavoro che abbiamo svolto sulle sopracciglia. Più bello rispetto al pennellino di Estée Lauder perché è molto più morbido e soprattutto è molto più affusolato, quindi avete anche una gittata di distanza molto più semplice da effettuare. In questo modo voi andate semplicemente a pettinare le sopracciglia e non rischiate di andare oltre, cosa che può succedere con altri pennellini che sono un po' più grossolani. Questo veramente è molto molto fine ed è una matita veramente super precisa, sia nel pennellino sia soprattutto sulla mina. La colorazione che io ho scelto è blonde, però come vi facevo vedere il prodotto prima di NYX, NYX ha questa particolarità che fa delle nuance spettacolari per tutti i gusti, per tutti i tipi di pelle e in questo caso per tutti i tipi di sopracciglia. Il prezzo di questo tesoro meraviglioso è di 11 euro, quindi super super abordabile, la sua tenuta è veramente tra le migliori, quindi questa merita davvero il primo premio, sia come precisione, sia come tenuta, sia come colore, sia come pennellino da sfumatura. Ragazzi, anche per oggi il video è finito, se vi è piaciuto ovviamente lasciate un like, nei commenti sono curiosa di sapere quali sono i vostri prodotti preferiti per le sopracciglia. Ci vediamo al prossimo video e let's talk about!